buongiorno a tutte e buongiorno a tutti allora nuovo video blog barra che grigio allora questo è un video che vi racconto che praticamente stamattina è nuvolosissimo però un confronto a nuvoloso c'è anche un po di aria fresca c'è sempre un po di caldo si sta un po così così scusate un po più questi occhiali ma non ne posso fare a meno perché non vedo nulla a parte l'occhialio che ho ma vabbè non posso più che altro farci niente comunque sto registrando con l'iphone 7 e la lampada ring light non so cosa si possa vedere però sperando che si veda bene il video allora innanzitutto nulla praticamente questo è un video vi dico tutto quello che ho fatto oggi ovvero ho spazzato ha lavato i piatti e non ho lavato da casa perché tanto il resto l'aveva già fatto mia monna questo vestito vedete bello che carino vero credo molto bello sì mi piace e vi dicevo oggi praticamente mi piace molto mi piaciuto molto quello che ho fatto perché come dire mi piace molto il fatto che ho potuto anzi ho voluto di terminare non sempre la faccia però mi piace quando aiuto mio non mi rilassano moltissimo e niente allora questo video cliccio appunto voglio dire che ho spazzato appunto ho lavato i piatti e i piatti della colazione e i piatti della sera invece perché l'abbia lavato mia nonna e vabbè top però è nulla quindi in questo video voglio includere anche il video dei preferiti perché mi sa tanto che dei preferiti lo faccio tutto in un in un unico video e ve lo voglio aggiungere che mi sta pianto molto piacendo questo bioncen questo qui che all'incontrare una chissene perché se lo metto la alla alla posteriore il posteriore il telefono posteriore non mi vedo io quindi non mi trovo ragazzi che devo dire non mi trovo e basta allora pioncen questo qua è buonissimo da 750 milo di prodotto per un paio di quanti 12 mesi di ipao e mi sta piacendo tanto mi rilassa molto quando faccio la doccia è un profumo che questo se lo vedo se non lo vedo le altre parti me lo sogno nel senso che non lo trovo poi come altri bagno schiuma che mi piacciono da morire è l'argan e l'orchidea no cos'è orchidea e imperiali si argan e questo qua olio di argan con nutri e rigenera si olio di argan biologico questi due vedete come comunque anche i pecca sono bellissimi mi piacciono da morire io sono top innamorata di questi vital allora il bioncen è top anche lui però i vital non mi faccio mai mancare ne ho anche scorta anche qua sotto e sono buonissimi perché hanno una formazione eccellente e ottimale molto buoni si mi piacciono davvero tanto 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 poi 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 non so dove mettere questi prodotti oltre ai preferiti ho terminato questo qui antiforforo non ho terminato perché lo utilizziamo anche io mia nonna soprattutto io e anche mia nonna il fructis garnier antiforfora shampoo fortificante libera dalla forfora zinco piritone piritone po non capisco perché per scritto questa cosa piritone non so cosa si possa leggere però c'è scritto piritone qua sotto vedete boh vabbè curiosa questa cosa no troppo l'ho messa adesso è troppo poco è troppo poco anche adesso dopo aumentarono troppo comunque questo è il piritone allora che piritone dici allora libera dalla forfora zinco e piritone è più tè verde comunque mi sono persa in chiacchiere perché non so quanti minuti secondi capelli normali elimina la forfora visibile dalla applica dalla prima applicazione anti ricomparsa adatto uso frequente e dimostrato dimostrato infatti già perché già ce l'ha dimostrato perché così perché pulisci molto bene anzi io faccio più prima la prima passata e di sciacquo la seconda la seconda passata di shampoo la seconda applicazione per decidere meglio le cose e poi una terza applicazione perché sono la forfora non sparisce definitivamente così con uno schiocco di dita e quindi faccio la mia solita applicazione con tre passati con tre applicazioni di shampoo antiforfora e da lì sparisce tutto il mio pari sparisce tutta la mia forfora un attimo no 250 mili prodotto e mi piace stra buono poi poi 12 mesi di pao che sono buoni poi un attimo no senso da in anche questo mi stra piace pulisce bene spianca bene i denti ma soprattutto le difende della mia mi difende dalla mia sensibilità dentale molto buona e anche gengivale perché i denti gengivi soprattutto sensibili quindi ops ma mi allucinante poi come coltore è terminato qua c'è anche la scatola del senso dine come potete vedere senso dine coltore white e fresh del euro spin euro spin fa altri prodotti ma non tutti quanti non sono tutti granché ma alcuni ci piacciono e mi faccio un bel caricarismo di prodotto in bocca e poi lo rimuovo sputandolo scusate non è un bel dire però è la verità vabbè lo rimuovo lo di ricetta poi a posto la bocca bella ripulita e rigenizzata ovvero questi dettagli potevo anche risparmiarmeli però oramai ve l'ho detti no non taglio nulla ragazze è soffiato non taglio nulla però questo mi piaciuto molto 500 euro il prodotto per un po di sei mesi troppo ragazze mi piaciuto un casino e ve li consiglio anche questi prodotti sono buoni niente ragazze questo era tutto buon appetito buon pranzo a dopo ciao